Siamo arrivati alla grande settimana, talmente grande da essere definita santa per noi cristiani. La settimana in cui ora dopo ora seguiremo gli ultimi avvenimenti della vita di Gesù, come se sincronizzassimo l'orologio della nostra quotidianità alle ultime vicissitudini che Gesù ha dovuto affrontare. È curioso perché faremo le nostre solite attività almeno fino a venerdì, quindi andremo in ufficio, a scuola, vedremo le persone. Intanto potremo un po' come dei carbonari pensare ai sentimenti che attraversavano il cuore di Gesù nelle ultimissime ore della sua vita. Una settimana importante, ci siamo preparati a questa settimana in questi 50 giorni, invece adesso dobbiamo smettere di prepararci e sederci ad osservare lo spettacolo, come dice Luca, lo spettacolo di un Dio che muore. In questa Domenica delle Palme e della Passione abbiamo iniziato ricordando l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme. Una cosa che a me emoziona molto perché qualche anno fa, quando ero riuscito a regalarmi una Pasqua a Gerusalemme da solo, ricordo che stavo passeggiando lì nei dintorni della Valle del Cedro, nella Genna, e ho visto questa scena di questi due ragazzotti palestinesi che giocavano con un ciuchino e mi veniva in mente questo Gesù che sale su questo ciuchino che viene portato dentro a Gerusalemme con la gente, i ragazzini che cominciano a cantare, a urlare, a prendere dei rami d'ulivo e delle palmi, a stendere di mantelli per terra. Un momento di gloria, di effimera gloria per questo Messia che entra a Gerusalemme per essere ucciso. E guardando questa scena e meditando su questo evento non posso non sorridere questo Messia trionfante che entra a Gerusalemme cavalcando non un bianco destriero, come vorrebbe la favola, ma entrando su un ciuchino, quasi come se non si prendesse troppo sul serio. Osanna veramente Signore, la gente che si interrompe i lavori dei campi per avvicinarsi e ringraziarti e dire Osanna, ancora oggi lo facciamo. E sapete che la Chiesa durante questa Eucarestia, quasi anticipando quello che succederà, il Venerdì Santo legge la Passione. Se potete partecipate il Venerdì, se riuscite andate a seguire la Liturgia della Croce in una delle nostre parrocchie, ma comunque oggi leggiamo per intera la Passione di Marco. Sapete che dietro ogni evangelista c'è il suo carattere, il suo temperamento e anche la sua esperienza di fede. E nella Passione si vede chiaramente quello che lui pensa di Gesù, quello che lui ha sperimentato di Gesù. Non dimentichiamoci mai che dietro Marco c'è Simone, c'è Pietro. Ed è interessante perché la Passione di ognuno dei quattro evangelisti dice molto della loro visione di fede. In Marco la Passione è molto stretta, stringata, un concatenarsi di eventi. Ci sono poche parole e la cosa che più stupisce Gesù tace. Tace quasi sempre, in tutta la Passione dirà sì e no due frasi. Quasi come se Marco e Pietro intendessero dire che Gesù non era assegnato, ma consapevole che quella è la strada, che non c'è altro da fare. Consapevole che davanti alla chiusura e l'ottusità dell'uomo c'è poco da discutere, c'è poco da dire. Allora anche quest'anno, come tutti gli anni, invito me e voi a identificarvi nei personaggi. Magari in questo triduo pasquale, questa settimana 2012, arriviamo, non lo so, magari un po' scoraggiati, un po' delusi come gli apostoli, oppure presi da troppe cose come la gente di Gerusalemme che si stava preparando alla Pasqua. Oppure magari, chissà, consideriamo Dio una specie di avversario e concorrente come il Sinedrio, oppure un intralcio come Pilato, le cose di fede, devo pure portare i miei figli a catechismo che è rottura di scatole. Insomma, troviamoci perché ci siamo, siamo lì come spettatori, ma anche come coprotagonisti di questa passione che continuamente si ripete. Ma fra tutti, soprattutto in Marco, vi chiedo di identificarvi in due personaggi, di cui solo Marco parla, come a sottolinearne l'importanza. Il primo è un ragazzo, un ragazzo presente nell'orto degli ulivi che sta dormendo, fa caldo, quindi è mezzo nudo mentre dorme, sente un trambusto, scende, guarda da dietro gli ulivi che succede, a un certo punto in mezzo al trambusto qualcuno lo nota, si spaventa, scappa via, si impiglia lenzuolo e corre via nudo. Un particolare che ha fatto versare fiumi d'inchiostro, si è cercato inutilmente, secondo me, di identificare questo ragazzo. Qualcuno sostiene, anche a ragion veduta, che possa essere Marco stesso, che ragazzo aveva questo podere in cui Gesù si ferma a pregare. Quello che è certo, però, Marco vuole dare un'indicazione precisa. Quel ragazzo siamo noi, è il discepolo, è il neofita che fino a quando non ha il coraggio di fermarsi a guardare la morte di Dio, non ha ancora accolto qual è il vero significato della fede. E non possiamo non pensare che dietro questo giovinetto, questo Marco, ci sia un po' Pietro. Pietro è lui per primo che sa, che riconosce, che fino a quando non abbiamo attraversato il Golgotha, non possiamo sapere se siamo credenti oppure no. Non dobbiamo scappare via davanti alla prima difficoltà, questo dice Marco. Non dobbiamo correre via, nudi. Ma è interessante perché lo stesso termine, lo stesso nome, lo stesso ragazzo, lo ritroveremo seduto nella grotta dove Gesù è stato sepolto, per testimoniare che Gesù è assente. Se abbiamo il coraggio, e c'è un altro lenzuolo questa volta ripiegato, se abbiamo il coraggio di affrontare fino in fondo, seriamente, non come una cosa banale, sentita dire che ormai siamo abituati a Gesù crocefisso, poverino, ma qualcosa che ci scardina nel profondo, se abbiamo il coraggio di restare, di non fuggire, se abbiamo il coraggio di accettare questa nudità necessaria, questa nudità che ti porta anche a misurare il tuo limite, e Pietro farà così, non possiamo arrivare alla gloria della risurrezione, non possiamo arrivare a sederci, a contemplare questa magnifica assenza di Dio. E poi c'è un secondo personaggio di cui parlano anche gli evangelisti, ma solo gli altri evangelisti, ma solo Marco lo fa parlare, che è il centurione. Ci immaginiamo questo centurione, questo ufficiale, ormai alla fine del suo percorso, della sua carriera, prossimo alla pensione, che era lì in questa riottosa provincia, ad assistere a questa scena terrificante della crocifissione, questo monito terribile, copiato dai romani, probabilmente altri l'avevano inventato, questa morte per asfissia che poteva durare giorni, che era truculenta, era qualcosa di osceno, ebbene questo uomo, abituato a tenere lontana la folla, i parenti, abituato a comandare i suoi soldati, di crocifiggere, appendere questi uomini, dice Marco, vedendolo morire in questo modo, disse veramente, costui è il figlio di Dio. Curioso. Tutto il Vangelo di Marco, l'abbiamo già visto all'inizio dell'anno ordinario, si pone questa domanda, chi è veramente Gesù? Chi è quest'uomo? Quest'uomo che libra, quest'uomo che guarisce, quest'uomo che si arrabbia, quest'uomo che entra nel deserto, quest'uomo che si trasfigura, chi è veramente? E Marco conclude il suo Vangelo, facendo dare la risposta a un non credente, a un pagano, a un romano, che dice, veramente, questo era il figlio di Dio. L'augurio che vi faccio allora, in questa settimana straordinaria, che faccio a voi, ma che faccio soprattutto a me, come cercatore di Dio, è di non abituarci mai alla morte di Dio e alla sua risurrezione, di avere il coraggio davvero di far vibrare dentro ogni nostra fibra queste cose che veramente sono successe, che continuano a succedere nella fede, per poter anche noi dire come il centurione davvero, costui era il figlio di Dio. L'augurio che vi faccio e che mi faccio allora è di esserci. Se riuscite compatibilmente con i figli e con gli orari di lavoro, provate a partecipare al Triduo Pasquale, il giovedì sera in cui facciamo memoria dell'ultima cena, la notte del giovedì in cui Gesù passa a pregare nel Gezzemani, il venerdì, l'unico giorno dell'anno in cui la Chiesa non celebra l'Eucarestia insieme al sabato, quasi come a fermarsi, le nostre Chiese spoglie, senza fiori, senza tovaglie, quasi a fermarsi davanti al grande mistero della Croce, infine il sabato sera, la madre di tutte le veglie, la grande notte di Pasqua. Buona settimana santa a tutti!